Musica Oggi incontriamo Gerardina Colotti, giornalista del Manifesto, esperta dell'America Latina Soprattutto oggi protagonista e spettatore diretto di un evento importante e storico in Venezuela Si sta consumando una crisi politica che deriva da un fatto che abbiamo conosciuto ma che tu hai vissuto La sconfitta per la prima volta delle elezioni parlamentari della sinistra, dell'esperienza bolivariana E la vittoria della destra nel Parlamento con una lampissima maggioranza Innanzitutto approfittiamo di questa tua esperienza diretta, sei stata giù molto tempo in Venezuela Per capire da dove viene questa sconfitta che ha messo in crisi il processo bolivariano e ci ha vista Certamente non è mai un buon esercizio quello di mettere sempre fuori di sé gli errori, le cause quando si subisce una sconfitta È un pessimo esercizio che nella sinistra italiana abbiamo visto ripetersi all'infinito e ancora non è terminato questa assenza di bilancio Quindi c'è una grossa parte di compagni in Venezuela che preferisce partire da quello che non si è fatto O che si è fatto male piuttosto dalle cause inoppugnabili degli attacchi forsennati che i poteri forti hanno portato contro il Venezuela in questi anni E in particolar modo dall'interno e dall'esterno e in particolar modo da quando dopo la morte di Chavez è stato eletto con uno stretto margine di voti Nicola Maduro E si è pensato di poter approfittare di quella debolezza e quel forte momento di disorientamento per farla finita con l'esperienza bolivariana E quindi certamente c'è stato immediatamente a seguito di quella che Maduro medesimo ha definito una sberla salutare Un grandissimo ritorno di partecipazione popolare, assembleare Cioè il Venezuela è sempre stato, il Venezuela bolivariano un paese in assemblea permanente Si trovano tutti i settori sociali che discutono costantemente o scendono in piazza o rivendicano o litigano con il medesimo governo E però lì si sono creati subito dei circuiti assembleari più specifici e organizzati per discutere su che cosa non avesse funzionato Io ho visto, stando lì a diverse riprese, l'ultima volta in estate per partecipare a un incontro internazionale sulle fabbriche e le imprese recuperate Che si è svolte nello stato falcon, mi sono resa conto di quanto la popolazione fosse provata dalla guerra economica Dal contrabbando e dall'accaparamento delle grandi imprese multinazionali e nazionali Dei prodotti sussidiati del governo e dei prodotti in generali per far arrabbiare la popolazione Provocare dei saccheggi che non ci sono stati comunque a dimostrazione della maturità politica di questo popolo E però per provocare una disaffezione che effettivamente c'è stata Perché è logico che ci sono stati in questi anni anche delle inefficienze di uno Stato logorato dall'esercizio del potere E anche aperto in quanto basato soprattutto sul consenso e non certo su un'idea di rivoluzione leninista o ghevarista tradizionale del secolo scorso E quindi aperto a ogni tipo di commistione, di intervento a partire da quella dei funzionari che non hanno cambiato Dei funzionari governativi, dei funzionari ministeriali Dicevi di questa caratteristica della rivoluzione bolivariana da Chavez in poi E cioè di aver accettato sempre l'esito delle elezioni Chavez accettò una sconfitta in un referendum su una proposta costituzionale Che poi venne bocciata per poco ma fu accettata questa sconfitta Maduro ha accettato l'esito delle elezioni che lo vede con un partito, il partito socialista unificato di Venezuela Minoranza nel paese e nella Camera Tra l'altro nella Camera ha anche amplificato la forza della destra per il sistema elettorale Che aveva una base anche uninominale che ha consentito alla destra di guadagnare molti voti Oggi la relazione tra i poteri in Venezuela come si va articolando Visto che uno dei poteri dello Stato è nelle mani della destra Sì è molto importante, ci sono alcune considerazioni che possono essere utili anche per noi Qui stiamo discutendo di questioni di riforme, di referendum, della Costituzione E beh bisogna dire che lì l'esercizio dei poteri non è un puro esercizio nominale La gente, la base, il popolo bolivariano che ha contribuito fortemente a formare A scrivere la Costituzione bolivariana avanzatissima Tra l'altro la difende e ne ha sempre fatto uno strumento non certo distaccato e lontano Ma uno strumento quotidiano e sistematico di difesa dei propri diritti E di ampliamento di questi diritti Quindi continua a essere così Io ho partecipato proprio poco prima di venire via dopo la sconfitta in Parlamento Alle parlamentari da parte del ciavismo A un grandissimo incontro di costituzionalisti Che qui avrebbe visto sì e no la partecipazione di 30 specialisti Se andava bene, comprese mamme e parenti dei partecipanti E lì saranno stati 3.000 persone C'era una coda fuori da questo grande teatro nella piazza Bolivar Di persone che discutevano di questioni appunto di articoli dei famosi 5 poteri Perché in Venezuela ci sono oltre ai 3 poteri classici che abbiamo anche noi Ce ne sono altri 2 quindi sono 5 L'equilibrio è stato intelligente Il potere elettorale Il potere cittadino, il potere morale E ognuno di questi sono formati da organismi fondamentali Come per esempio il Tribunal Supremo di Justizia Che è il vero e proprio ago della bilancia Perché tocca al Tribunal Supremo di Justizia Decidere se esiste un ricorso rispetto a una legge Che per esempio vede il non accordo da parte del Presidente Questo equilibrio dei 5 poteri Si dà in una Repubblica presidenziale In cui il Presidente ha caratteristiche prerogative analoghe A quelle del Presidente degli Stati Uniti Infatti si dice che l'opposizione tenterà il colpo Chiedendo la revoca di Maduro nei prossimi mesi Perché una situazione anche complicata dal punto di vista proprio del processo legislativo Lo dicevi con un Parlamento che va in direzione opposta a quella del Presidente E' possibile per la Costituzione Bolivariana e Venezuelana revocare Maduro? Sì, è possibile ma il procedimento è lungo Cioè intanto nella Costituzione medesima è prevista la possibilità di revocare a metà mandato E con un referendum, raccogliendo le firme per un referendum cittadino o nazionale Qualunque carica dello Stato, anche quelle comunali, anche un deputato Quindi questo è un esercizio che per esempio la destra ha già utilizzato nei confronti di Chavez Però faticando molto a raccogliere le firme per proporre il referendum Le ha raccolte, ci ha messo effettivamente un bel po' Le ha raccolte e poi l'ha perso L'ha perso ampiamente perché la popolazione ha continuato a dare l'appoggio al suo Presidente Non è che non ci fossero allora gli attacchi, le crisi e i problemi interni A una rivoluzione che effettivamente è un esperimento, un laboratorio Ora vogliono fare la stessa cosa con Maduro Però certamente questo prende tempo E non sono tutti d'accordo neanche su questo criterio Una grossa parte dell'estrema destra Cioè questo poi vorrei precisare un po' che cos'è questa opposizione Che ha vinto il Parlamento Una grossa parte dell'estrema destra vuole ricorrere agli stessi metodi violenti A cui ha già fatto ricorso nel 2014 provocando 43 morti e oltre 800 feriti E la prima questione infatti che vuole porre Cioè le destre non hanno un piano Quello come non hanno mai avuto Quello che hanno è guidato, è indotto dai poteri forti che queste rappresentano Uno dei primi atti simbolici però è stato quello di togliere dal Parlamento Le immagini di Chavez e di Simon Bolivar Uno dei padri della patria E tra l'altro di ripristinare il quadro di Perex Del presidente allora di centro-sinistra Che ha portato alla rivolta del Caracaso contro il Carovita E che ha consentito naturalmente indotto dal Fondo Monetario Internazionale E dai suoi piani di aggiustamento strutturale Che ha portato a fosse comuni perché il presidente ha ordinato di sparare All'esercito di sparare sulla folla, la rivolta del Caracaso dell'89 E oggi l'esercito però è ben diverso Esattamente, questo è il dato più Infatti recentemente mi è capitato di partecipare a una conferenza stampa È stata ristretta durante la trasmissione proprio al quartel San Carlo Dove sono, al quartel, pardon, della montagna Dove sono sepolti i resti di Chavez E questa è stata una delle preoccupazioni Che era una delle principali Ed è una delle principali da parte del popolo e di tutti Che cosa avrebbe fatto Che cosa ne sarebbe stato dell'unione civico-militare Questa, diciamo, grande conquista del sud del mondo Che sopravvive in modo proficuo solamente in Venezuela Perché è fallita in tutti i paesi arabi Abbiamo visto come i nazionalismi arabi hanno ceduto Alle sirene del neoliberismo E quindi dall'Egitto passando poi per Gheddafi, eccetera E hanno spesso e volentieri massacrato anche i comunisti Quindi non c'è stata minimamente questa Cioè si è interrotto quel processo fecondo Che negli anni 60 e 70 Aveva portato alle grandi lotte di liberazione nazionale Perché poi è stato appunto, come dire, stoppato Stoppata la possibilità che il socialismo Si unisse ai fermenti più avanzati del nazionalismo del sud del mondo E producesse qualche cosa che invece in Venezuela sta funzionando Sovranità e processo socialista erano due elementi Che si basavano anche su una grande risorsa del Venezuela Che era il petrolio E che oggi invece è un problema per l'economia venezuelana Ha dato il prezzo bassissimo del greggio Forse anche indotto per risolvere alcune questioni Non solo con il Venezuela ma anche con la Russia E con altre situazioni internazionali Come si vede in Venezuela questa guerra economica sul prezzo del petrolio? Beh si vede perché si vede in conseguenza Cioè è chiaro che il Venezuela resta il primo Il paese che custodisce le più grandi riserve di petrolio Ma è il quinto paese per produzione di gas E ha tra l'altro anche una straordinaria riserva di ricchezze naturali Quindi dall'acqua alle foreste alla biodiversità E che è altrettanto presente nei programmi strategici Perché il Venezuela parla di ecosocialismo C'è anche un ministero per l'ecosocialismo Quindi è l'unico paese dove per esempio Non si aprono più miniere di carbone Che si è ascoltato senza nessuna fatica La rivendicazione dei movimenti che vogliono interrompere Non si fanno le strade che passano attraverso le popolazioni indigene I luoghi di risorse naturali Poi certamente c'è un grande contrabbando E questo è un altro problema serissimo Alle frontiere Complice un processo che non ha prodotto Tutto quello che doveva produrre All'interno delle organizzazioni indigene Perché purtroppo alcuni cacicchi Sono stati evidentemente comprati Tanto da essere tre dei deputati delle destre Tra l'altro tre di quelli questionati Poi ne parlerò dal Tribunal Supremo De Justizia Perché hanno compiuto brogli evidenti E quindi sospesi Ebbene questo processo non è terminato E quindi le stesse popolazioni indigene In gran parte Quelle che si trovano alle frontiere I loro cacicchi si sono fatti comprare Perché il contrabbando alla frontiere Rende tantissimo Noi immaginiamo che fare il pieno Di una Jeep enorme Costa meno di 50 centesimi E che venderlo alla frontiera Venderlo in Colombia Dove i prezzi della benzina Sono come i nostri Più o meno Immaginate che cosa significhi Basta fare tre volte avanti indietro Il viaggio oltre frontiera Per realizzare un business miliardario Ed è quello che sta poi Che ha portato Alla crisi che sta vivendo Il Venezuela La guerra economica Perché oltre al contrabbando di benzina C'è anche quello degli alimenti E una delle misure Che Maduro ha proposto Proprio ieri In un piano di emergenza economica È quello di aumentare Di discutere dell'aumento Del prezzo della benzina Un problema spinosissimo Perché c'è una cultura Nessun governo di nessun colore È mai riuscito a farlo Perché c'è una cultura Proprio che è molto radicata Da parte della popolazione Che siccome il petrolio Non si produce Ma si raccoglie Tra virgolette Questo debba essere Non debba essere pagato Quindi insomma Però si vede La tua domanda era Come si vede la crisi economica Si vede perché Siccome il Venezuela bolivariano È un paese che destina Oltre il 60% Dei suoi introiti Alle misure sociali Queste misure sociali Non solo non sono venute meno Ma anzi Sono state ribadite Anche recentemente E si è prodotto Quindi una Adesso anche recentemente Si è deciso Di alzare un po' di più Le tasse Ai ricchi All'impresa Passandoli dal 30% Al 40% E però si vede Perché naturalmente Quando il paese Per esempio Deve chiedere prestiti O Un paese che dipende Ancora troppo Dalle importazioni Siccome le agenzie di rating Giocano sul fatto Dell'aumento del rischio Paese E lo fanno naturalmente In modo strategico Come tu dicevi Perché rispondono A interessi internazionali Ecco che obbligano Il Venezuela A pagare in contanti Qualunque cosa Subito E a un prezzo Assolutamente maggiorato Questo chiaramente È in grado Di mettere in ginocchio Qualunque tipo di economia Per affrontare Questo tema Il Venezuela Di Chavez Aveva proposto Integrazioni regionali Poi il Mercosur L'Alba Tanti processi Ma è l'intera America Latina Che segna il passo Nel senso che Il Brasile È in grave difficoltà L'Argentina Ha visto da fermarsi L'Unione neoliberalista Spinto Ci sono processi Insomma che segnano Quasi che Come se fosse finita Quell'onda Che proprio con Chavez Aveva avuto Inizio Tu pensi Che si possa riprendere Il cammino? La prima considerazione E la seconda Conclusiva Il Venezuela In una situazione Tradizionale Potrebbe anche essere A rischio di guerra civile Possiamo pensare Che questa crisi Possa essere governata Dentro Un processo Non conflittuale Non armato Diciamo Dentro un paese Appunto Complesso Come il Venezuela America Latina Venezuela Ma il grande tema Che riguarda anche noi Che riguarda Tutto il mondo Globalizzato E a predominio Neoliberista È Quale rapporto Si possa istituire A favore delle classi popolari Tra riforme Si sarebbe detto Una volta Rivoluzione Fosse anche Una rivoluzione Di democrazia radicale Compiuta Portata avanti Prevalentemente All'interno Di elezioni Tu dicevi prima Il riconoscimento Delle elezioni Eccetera Eccetera Certo Riconoscere I paradigmi Lealmente I paradigmi Dientro cui Si è sviluppata La rivoluzione Bolivariana È sempre stato Un elemento Di chiarezza Proprio perché Loro Basano La scommessa Prevalentemente Sul consenso Sul essere capaci Di convincere Anche chi non è D'accordo Della giustezza E della cifra Di maggior civiltà Che c'è nel progetto Bolivariano Rispetto a tutte Le devastazioni Però questa Sono in molti Ad accusarli Anche un po' Di ecumenismo Perché è evidente Che Indire le elezioni In un clima Di forsennato Attacco Come era quello Che si stava Evidenziando E' stato un altro Grande trappolone Nessun paese Lo avrebbe fatto Avrebbero trovato Qualunque tipo Di escamotage Però purtroppo Nella campagna Di discredito Internazionale Che c'era stato Si può fare Un paragone Un po' Come quello Fatte le debite Proporzioni storiche Che è accaduto In Nicaragua Anche La Costituzione italiana Dice che In caso di guerra Il Parlamento Può decidere Di rinviare L'appuntamento elettorale Se si è votato Probabilmente In una situazione Paragonabile A una guerra Sono completamente D'accordo Ed è un'osservazione Giusta Solo che purtroppo Qui manchiamo Cioè manca Un sostegno E una consapevolezza Forte Dell'eredità Straordinaria Della storia Del movimento operaio Nel novecento In Europa E un'eredità Forte Anche a livello Simbolico Che consentirebbe Di intendere I percorsi Del sud del mondo Alla luce Di quello che noi Abbiamo prodotto Anche in Europa Quanto di meglio Invece purtroppo Si è ridotto Tutto a questioni Lontanissime ormai Dal vero interesse Popolare Anche se Come se fosse Una questione Di specialisti Si parla di Di cose Che toccano Profondamente La vita Della popolazione Ma di cui Non si vede più Il nesso Perché la politica È diventata Questione di apparati Ora si parla Di caste E tutto E non Non si intende più Quello che invece È la cifra Del sud del mondo Della politica Come poter fare E quindi Come ricerca Anche dell'impedimento Di chi la intende Come politica Su qualcuno E quindi Della rimozione Di questo ostacolo Come questo ostacolo Si possa E si debba rimuovere Naturalmente È questione Che riguarda I contesti Storici Specifici E quello del Venezuela Come ha detto Chavez Più volte Noi siamo È quello di essere Un paese Un popolo Pacifico Ma non disarmato Non disarmato Nel senso Prima di tutto Della consapevolezza politica Ma non disarmato Nel senso Dell'unione civico e popolare Civico-militare Non per niente I vertici Delle forze armate Si sono schierati A pugno chiuso Nella difesa Del socialismo bolivariano Non è un popolo disarmato Anche e soprattutto Nelle milizie popolari Che sono Diciamo Le milizie di autodifesa Nei quartieri Che al di là Delle armi Però compiono Un lavoro Costante Sistematico E continuato Di contesa Anche alle mafie Paramilitari Che ne portano avanti La questione Degli equilibri Internazionali È Chiaramente Importantissima Perché Quando Il governo Bolivariano E gli altri Che sono venuti dopo Progressisti D'America Latina Hanno vinto Le elezioni E c'era già Quel contesto globale Dato E quindi L'aver iniziato A scardinare Delle relazioni Ha dovuto Tenere conto Prima di tutto Di quel contesto Che è quello Che conosciamo bene Anche noi E poi Anche delle differenze Politiche Esistenti Di passo Esistenti All'interno Di quei governi Per esempio Un'architettura Una nuova Architettura Finanziaria Che è stata portata avanti Un po' più velocemente Nell'alba Però ha trovato Molte più resistenti Per esempio Nel Brasile Che non Dove i movimenti Popolari Sono forti Ma il segno Istituzionale Che quel paese Ha È Come dire Subordinato Alle alleanze Non certo favorevoli Al già moderato Partito Dei lavoratori Si sono trovati Lo stesso discorso Vale Quando le architetture Istituzionali Quando questi governi Che sono stati Portati su Dai movimenti Popolari Però Continuano a rimanere O hanno Come segno Preponderante La vecchia Architettura Istituzionale È molto difficile E infatti Si è visto Poi la crisi L'esperienza Più avanzata Ancora una volta È quella del Venezuela E non a caso La prima cosa Che vogliono Scardinare le destre Da Macri In Argentina A quella del Venezuela È proprio Petro Caribe Sono le alleanze Solidali Non asimmetriche Perché Perché La novità Nefasta È che C'è una rivincita Si potrebbe dire Una rivincita Tardiva E maggiorata Dell'Alca Sconfitta Dall'America Latina Progressista Cioè dell'alleanza Subalterna Agli Stati Uniti Insomma Siamo in un momento Di crisi Di cui L'esito Non è assolutamente Scontato Ma anche di battaglia E di possibilità Per il Venezuela E speriamo Per tutta L'America Latina Comunque ce ne racconterai Ancora Perché Approfitteremo Della tua Straordinaria esperienza In quel In quel paese Ricordiamo Che Del Venezuela Noi ci siamo occupati Moltissimo Come Libera Come Libera TV E che Il fulcro Della nostra Riflessione È proprio Sulla capacità Di popolazioni Dell'altra parte Del mondo Di dare un messaggio Di possibilità E di speranza Anche a noi Che siamo in una situazione Ancora più arretrata Nonostante la crisi Che vivono I venezuelani Grazie Tra l'altro discuteremo Scusami Il 21 Al Cinema Palazzo Insieme a Un Bravo E competente Ricercatore Argentino Che è il direttore Della facoltà Vierta Nella Università Di Buenos Aires Che è Andres Ruggeri E quindi parleremo Proprio Della possibilità Che il potere Popolare Prenda Maggiormente Piede Proprio In una Situazione Così difficile E che in tutta L'America Latina Si produca Non la fine Del ciclo Progressista Come alcuni Vorrebbero Ma un ulteriore Scatto in avanti Che metta Un po' Che subordini L'accettazione Di nuove strutture Di governo Alla forza Dei movimenti Popolari Grazie 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 a tutti